bella ho finito i colpi 20 dei colpi aspetta che sta sparando caproia la metrata violenta devo grattare il cazzo questo lo gratto io il cazzo ognone ma guarda che forza l'autentica che sparacchia ma vaffanculo colpito il muro davanti dio bono e cioè che faccio fino 18 18 ognuno devo andare a finis efe e loro sono in 6 mica siamo in sei tra l'altro tre squadre quindi siamo due contro due contro due e c'è quello con cecchino che oh no ho sparato lontano ti sei preso 138 uno quasi ammazzato ammazzato uno ma è quello lì e l'avoco smontato tutto il tetto e l'altro è giusto la macchina eeeh dove cazzo è l'altro giunto è vero c'è aiuto ma fuori va così morto è morto questo fatto bella ho fatto più assist che chi mi sta partita si no hai fatto anche allora siamo rimani ah ma c'è che sparo siamo due contro due sparo un perdito ma non posso eh si eh ma basta guarda la mappa non è che ma è che io mi metto sulla fila dove sono dove sono saranno dentro non c'è spuglio ah no ho visto no che cazzo è andato io dove non c'è spuglio ah no ma è fuori safe no ho terminato la constazione lì che tanto tram po' semi safe ah nei medaglioni comunque uno più scendini eccoli là stanno arrivando eh io non ho mai avuti ci sparino mi ha colpito mi ha colpito a caso sparando dentro non c'è spuglio si vabbè ma quanto cazzo non ho tolto ecco ecco io ero qua fin una giù merda sto morto porca puttana sto roba qua che è questo dio ciò fa di te dietro di te eh ma affanculo lo avevo chiesto di me questo cazzo di cui mi ha di merda mi ha devastato dai dai dietro di te dietro di te sei una vita all'interno qualcosa si si bella 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 grande